buongiorno a tutti sono alessandro pezzoli responsabile commerciale per la business unit textile di nema gruppo lonati siamo qui quest'oggi a itma 2023 insieme a tutte le aziende del gruppo lonati per presentare l'ambizioso progetto unlimited parliamo di arcadia il nuovo sistema di raccolta dati di nema a parte della suite unlimited è una delle grandi novità di questo itma 2023 un sistema di raccolta dati innovativo che andrà a sostituire nautilus per la nuova generazione di macchine lonati e santoni le tre funzionalità principali di arcadia sono sicuramente una nuova interfaccia grafica studiata per essere utilizzata con qualsiasi tipo di web browser una maggiore più veloce integrazione nelle macchine della nuova generazione lonati e una più accurata e veloce raccolta dei dati in tempo reale del vostro calzificio